alle vendite responsabili di armi a paesi del Medio Oriente. Io vorrei aggiungere a questi paesi, anche l'Egitto, che abbiamo armato dal 2013 fino a oggi, con forniture che sono state successive anche all'omicidio con tortura di Giulio Reggeni. L'Italia si è resa complice della repressione, si sta rendendo complice della repressione in quel paese. Sono armi che non sono certamente utilizzate per contrastare il terrorismo nel Sina, e sono armi usate nelle manifestazioni per andare di notte a casa a prelevare con modalità sudamericane attivisti e oppositori politici. E quindi questa è un'ennesima cosa che dovremmo cercare di fermare al più presto. Amnesty International, insieme a 103 ONG europee, ha inviato un appello ai leader europei, che esamineranno domani, tra le varie cose, anche il piano della Commissione, chiedendo che quel piano venga scartato.